ricordate quest'uomo quest'anno è pronto per un evento che cambierà molte vite la famiglia viene viene invitata dal capo di giorgio e cioè antonio catania a passare le vacanze di natale in questo castello molto freddo, sono sempre ambienti nei quali capisci come si viveva una volta noi siamo stati accolti molto bene dalla valle d'Avosto, la princi alimentari, io ero diventata la margherita del film ma fuori dal film ad affrontare questa trasferta temibile abbiamo comprato una punta di sfondamento che è Diego Abba Tantuale la posizione della quale faccio parte portava la neve dalla montagna alla braccia, cioè verso valle si caricavano questi camion e si portavano giù e solo che abbiamo trovato mentre scaricavano uno sciatore dentro nel camion di neve, sono scaricato lì che è diventato anche un nostro amico, adesso lo vedete perché è il ragazzo con la maglietta, con la barba, con lo scuro che dà un senso di meridionalità, pur lì era dentro nel camion, è un piaccio in patico aneddoto che racconto sempre sto scherzando sto scherzando